Bello ragazzi con Nico e oggi siamo con la demo di PES 15 che quest'anno è nettamente migliorata l'anno scorso e rispetto a FIFA ha fatto molti miglioramenti rispetto al 14 di FIFA e di PES 2015 attenzione Toni 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 Cross di che ferma tutto già i movimenti mi piacciono qui c'è Luca che ha aperto il suo canale da poco ma ancora deve mettere il video giusto ok ho fatto il video di presentazione dai James James o come cazzo ti chiami bella questa entrata Gareth Bale Carvajal Benzema Karim James Rodriguez vuole lanciare Bale Bale è partito con la sua estrema velocità però si fa beffare dall'avversario che non so chi era ma c'hai detto? eh? saveri? si si perchè c'ho la telecamera a un metro dall'occhio è retropassaggio è retropassaggio cortiere Carvajal Bale Gareth Bale che Gabo di Squared chiama Giorgio bale buon 17? no 3 17 a fe? no 13 bravo mi sembra che non mi ha detto il gioco eh stavo subito stamattina che stava a fare la partita dei piedi mi pare che le partite non esalti non le fai sì bravo perché eh guarda come era eh eh io ho capito Karim 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 Benzema resta anche lui con il Real Madrid peccato che non c'è più a lui li parlo alla telecronaca tu sei Real Madrid? sì quindi ci sta ancora messi con Barcellona eh eh non mi dava via non posso eliminarlo dal calciatore o no infatti è che ero più forte che c'è il Barcellona o sbaglio? ci sta pure Niesta però non è un po' dunque con Messi dunque concentriamoci sulla partita Xavi Xavi pure non è male eh 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 sì Suarez pure ecco ecco due porco due Messi porco due Messi tiro palo ripasso Casillas Neymar le appoggia dentro ah Neymar pure ha come giocatore forte dei oh 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 taglio mi sa che sono due legge e fanno una cosa e no c'è stato il gol di Lionel Messi 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 ok il primo tempo è finito due pari dopo un errore difensivo porco santa madonna non dico nient'altro Neymar con i suoi soliti giochetti intercetta no non so chi era cross fa sempre più schifo in un momento appiccia il colore ok intanto Luca appiccia il computer ne verbo voce del verbo appicciare no Ronaldo no Ronaldo no Ronaldo grande grande Luca e dai quando ci vuole quindi il lancio incredibile ma non ci arriva Ronaldo viene intercettato poi Xabi Alonzo Karim 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 viene firmato la passo la passo eh non la posso dire dove lo avete qui sta è morti è morti eh infatti sono mortici e io che cazzo qualcuno che ci va vai Casimillas no Neymar Neymar ma non nei mondi Neymar mi dispiace ma passano in vantaggio ma non ci arrendiamo noi andiamo avanti si va bene così a me mi pare un video di quello che si è caricato YouTube mi fa pasca quale? quello dei mondaggi no no quando il primo vlog che si fatto del video quello che parla su Call of Duty ahahah ecco vi ricordo di passare su quel video perché è il primo vlog del canale tra poco ne usciranno altri attenzione Karim 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 viene accettato da Pichè ancora Karim 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 la parata non si sa come non so chi è il portiere nuovo del Barcellona ma ha fatto una parata incredibile calcio d'angolo ok come vedete no ho appena premuto ho appena premuto vai Karim ma oh che è? fai incredibile intervento di Marcellino questo porco due lo fa pasca eh va bene lo metto adesso non lo mettere adesso disturberà il video indeporco due vai Ronaldo intercetta Ciavi mascherano Ronaldo 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 non ce la fa via correre e Ronaldo viene intercettato tentava la girata furtiva no Benzema se ci arrivavi era finita via oh che passaggio di stacco questo questa è classe e finisce la partita 3 a 2 incredibile bene questa era la demo di PS15 guardate Bail come è fatto bene e l'ha fatto il culo? 3 a 2 si per il Barcellona meritato beh ce la siete messa tutta va beh questa era la demo di PS 2015 spero che vi sia piaciuta l'ha fatta anche Gabbo il canale di Luca si chiama Luca Leonetti e ancora non ha caricato video quindi vi avviserò io quando caricherà il primo video spero che questo video vi sia piaciuto come al solito lasciate un like e un commento se non siete ancora iscritti iscrivetevi noi ci rivediamo in un prossimo video bella